Salve, siamo gli studenti dell'Istituto Tecnico Guglielmo Marconi di Campobasso, dell'Indirizzo Biotecnologie Ambientali. E ora ci recheremo nella città di Trivento. Buongiorno Sindaco, vorremmo illustrarvi la nostra iniziativa su un progetto sull'ambiente da realizzare sul vostro territorio. L'obiettivo principale è costituire una coscienza civile nei cittadini, per un territorio sano e non inquinato. La realizzazione del progetto avverrà in due step, una a tre mesi e l'altro a tre anni. Nel breve periodo abbiamo pensato di realizzare convegni e pubblicità sui social per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione e realizzare inoltre passeggiata ecologica. Quindi confidiamo ovviamente nella vostra partecipazione. Mentre nel periodo a lungo termine abbiamo pensato di poter coinvolgere più comunità. Sindaco, cosa ne pensa della nostra iniziativa? Noi la vorremmo come partner del progetto. Certamente ragazzi, sono entusiasta di quello che voi mi state proponendo, perché è una tematica importante quella dell'ecologia. Mi voglio complimentare con voi tutti, con i vostri professori e con la vostra scuola. Trivento già è un comune che è all'avanguardia per quanto riguarda il riciclo, perché ha vinto anche dei riconoscimenti di comune riciclo da qualche anno. Abbiamo anche vinto un riconoscimento col progetto RAF. Quindi ben vengono le vostre idee e sono a disposizione e l'abbraccio volentieri. Il nostro obiettivo è quindi quello di arrivare con le nostre parole a quante più persone possibili. Questo sarà risultato dalle nostre conferenze che si diranno in sedi comunali e centri commerciali, creando un blog e mostrando sempre i nostri progressi e le nostre attività con foto e video su social e tv.